ciao a tutti e tutte bentornati sul mio canale scusate se è ma tanto a quella torna in sardegna comincia a fare video che non finiscono mai oggi vi faccio vedere cosa si vede da metà sopra c'è il pezzo sopra che non ci andiamo su 172 scalini guardate un po che bella vista che c'è da quassù qua si vede anche il mare laggiù c'è anche un tipo delle pentolacce guardate la telecamera guarda come si vede bene si sto anche registrando così non avrò molte altre occasioni per poterlo fare così me ne approfitto ora è ok praticamente siamo accanto a un muro praticamente sono 1 minuti e 27 ma facendo a vedere le stesse cose perché devo fare per oggi è tutto lasciate iscriviti al canale perché anche una volta la vita siete stati a l'antenna è metà campo ma non credo la base è bianchi out